Oggi le sule hanno deciso di rompere le scatole Cioè tutti appresso agli artificiali Il mio artificiale è l'unico pesce che c'è a mare Questi sono gli inconvenienti di questo periodo Cerchiamo di tirarlo piano in modo da non fargli male Soprattutto quando vi capitano queste cose mettetevi gli occhiali Perché ora appena arriva sotto barca Un po' così arrabbia Questa è un'asula Un'asula giovane E fa male ve lo assicuro Ora per non fargli male e farlo stare tranquillo Prendiamo un asciugamano Gliela mettiamo di sopra in modo che lei non vede E piano piano la liberiamo Lo so Lo so Fè calma 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 Vieni Dai Buona 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 Calma Buona Femma Per Buona Buona Sì, stai ferma, io ti rippero. Sei giovane, Curetina? Sì, stai ferma, io ti rippero, io ti rippero, io ti rippero, io ti rippero, io ti rippero. Sì, stai ferma, io ti rippero, io ti rippero, io ti rippero. Sì, stai ferma, io ti rippero, io ti rippero, io ti rippero. Sì, stai ferma, io ti rippero, io ti rippero, io ti rippero, io ti rippero, io ti rippero. Sì, stai ferma. Sì, stai ferma. Sì, stai ferma. Sì, stai ferma, io ti rippero, io ti rippero, io ti rippero. Non ti rippero, io ti rippero, io ti rippero. Sì, stai ferma. non va a campare, ora guardate che sto volando bello, là sotto ha preso quota, si è alzato e in tutto ciò io mi sono tagliato due dita rotto un retino e perso l'asciugamana a mano, maledetta vabbè, fa parte del gioco, mi sono capitato un sacco di volte queste cose, purtroppo continuiamo a pescare grazie